Le 5 stelle anche Di Maio interviene sulla data delle elezioni politiche, non si azzardino a rimandare, dice puntiamo a superare il 35%. Maria Soave. Rinviare il voto sarebbe un atto di arroganza della politica. Luigi Di Maio non arretra da uno degli imperativi del movimento andare alle urne prima possibile. Lo ribadisce da Milano dove con Davide Casaleggio partecipa a un'iniziativa sull'ambiente punto forte del programma Piantare 200 alberi nella periferia meneghina. Io penso soltanto una cosa che ci devono far andare a votare, non si azzardino a spostare in avanti la data delle elezioni per problemi loro interni di coalizione. Tutto il rispetto per i loro problemi interni di coalizione ma non possiamo ancora una volta tenere in ostaggio il paese. Il candidato premier dei 5 stelle poi parla della legge elettorale Rosatellum, dice è progettato contro di noi, hanno tentato di farci fuori e invece ci hanno rafforzati. Quanto al dialogo con la Lega di Maio frena, non è un nostro competitor, lo è piuttosto la stensione avverte e poi affonda. Salvini ha garantito la fiducia al governo Gentiloni facendo uscire i suoi dall'aula perché reggesse il numero legale.